L'anticiclone africano dal deserto del Sahara fa il suo ingresso nel bel paese. È dunque iniziata l'ondata di calore più potente e probabilmente più lunga del 2023. A parte una temporanea attenuazione al nord fra il 13 e il 15 luglio, non si intravede la fine dal caldo intenso che al sud durerà almeno fino al 20 luglio con picchi di 40-45 gradi. Anche in Piemonte si registrano temperature torride a quote collinari o di pianura con massime quasi ovunque a 34-35 gradi con punte vicino ai 37 e un alto tasso di umidità pari al 60% a Torino. La rete di stazioni Arpa ha registrato ieri un picco di 36,6 gradi a Sezzadio nell'Alessandrino, 35 ad Alessandria città. Le due giornate più calde dovrebbero essere sempre secondo le previsioni Arpa fra oggi e domani, quando saranno percepite massime di 40 gradi. L'aumento delle temperature minime, dicono gli esperti, ostacolerà il recupero fisiologico notturno, aumentando le condizioni di disagio fisico. È bene non uscire nelle ore più calde e a chi non è provvisto di impianti di aria condizionata in casa, viene suggerito di tenere chiuse le imposte e a rieggiare la propria abitazione la mattina presto e la sera. Lo stesso Piemonte, in queste ore di terre arse, fa i conti con la grandinata che lo scorso 6 luglio si è abbattuta in particolare sull'Alta Langa Cuneese e in alcune aree delle province di Torino, Asti, Alessandria. Secondo una prima stima, la perdita del raccolto va dal 70 al 100%, danni ingenti alle auto, ai tetti, alle coperture di case e imprese. Chiederemo l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, hanno annunciato il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'Assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa, ma siamo già al lavoro per stanziare anche risorse regionali, in modo da non lasciare indietro nessuno. Sarà inoltre necessario monitorare nel tempo la situazione, perché oltre al danno immediato, c'è pure quello che si manterrà in modo evidente per gli anni a venire e dovrà essere tenuto in dovuta considerazione.